Ho accettato di fare questa testimonianza video perché Gemma e Samantha sono veramente delle professioniste con le quali io ho collaborato e quindi ho avuto modo di testarne la consistenza e l'efficacia. Beh, innanzitutto è importante perché in un mondo dove i professionisti nascono come i funghi, loro hanno 15 anni di esperienza, di esperienza con gli imprenditori, di esperienza con i professionisti, di esperienza col mondo imprenditoriale in generale e questa è una cosa molto importante e poi perché loro hanno deciso di dedicare questo progetto alle donne. Voi sapete donne che voi siete il tesoro dell'umanità, voi avete una marcia in più di noi e sicuramente conquisterete sempre più potere, quali quote rosa? Qui avremo l'invasione del rosa, se vogliamo andare avanti in una certa maniera. E poi perché Gemma e Samantha hanno dimostrato nelle loro vite personali, nelle loro vite individuali, di essere delle mamme, delle mogli e delle professioniste realizzate, che non è proprio semplicissimo. Quindi quando mi chiedono di fare queste testimonianze le faccio solo ed esclusivamente con persone sulle quali metterei le mani nel fuoco. Per loro due le metterei perché conosco molto molto bene. Quindi, care donne, seguitele in questo progetto veramente interessante.